E' uscito il primo dato, quello sul tasso di inflazione europeo che si attesta al 2,2% in linea con quanto previsto e in linea anche quasi con l'obiettivo del 2% classico. Ancora però da tenere sotto controllo, ma il dato più importante uscirà alle 20 ore italiana per la decisione del PONC sulla decisione del tasso di interesse, il taglio dei tassi di interesse della Federal Reserve, ma gli occhi saranno secondo me puntati anche sulla conferenza stampa di Powell alle 8 e mezza, sempre orario italiano. Che cosa succederà e poi soprattutto rispondiamo alla domanda, ma un taglio dei tassi di interesse è davvero una cosa positiva per quanto riguarda i mercati finanziari e soprattutto come potrà impattare il primo taglio dei tassi dopo questa lunga serie di rialzi e di tassi ai massimi storici degli ultimi circa 20 anni, come potrà impattare sull'economia, ne parliamo in questo video. Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video di aggiornamento upgrade in sostanza su quello che è l'attuale situazione. Andiamo a vedere Bitcoin come ha reagito subito, si è portato una giornata di ieri a un limite di quello che è il livello, questo punto di resistenza più importante, di cui vi ho parlato nel video aggiornamento sull'analisi tecnica e l'analisi ciclica del lunedì, classico Bitcoin Monday. Guardate come si è appoggiato esattamente al nostro canale discendente del triangolo che avevo disegnato, quello che a questo punto diventa una delle figure tecniche più importanti per il prosieguo dell'andamento dei prezzi di Bitcoin dei prossimi mesi, quindi sempre breve periodo parliamo. Allora, questo dato è molto rilevante, quindi il Bitcoin si è appoggiato, guardate, sul canale non è riuscito a romperlo e ovviamente è andato in attesa di quello che è il dato più importante che muoverà senza ombra di dubbio i mercati oggi con una certa dose di volatilità, che è appunto la decisione sul tasso di interesse. C'è però un articolo di cui voglio parlarvi, qui lo trovate anche sul nostro blog tradingon.it, ragazzi, il sito dove trovate anche tutti i nostri corsi, eccetera. Per quanto riguarda il blog c'è quest'articolo che parla dell'opinione di Arthur Rice, sempre relativamente al taglio dei tassi. Vi leggo la frase direttamente dal suo speech. Il taglio dei tassi è una cattiva idea perché l'inflazione è ancora un problema negli Stati Uniti e il governo è il principale responsabile della pressione sui prezzi. Il secondo motivo è che il differenziale dei tassi di interesse degli Stati Uniti e Giappone si riduce con i tagli dei tassi. Questo potrebbe portare a un forte apprezzamento dello yen e innescare lo scioglimento del carry trade sullo yen. Allora, Arthur Rice fa riferimento nuovamente al problema del carry trade di cui abbiamo parlato in un precedente video, ragazzi, adesso se lo trovo ve lo metto in descrizione. Un video dove spiego praticamente tutto il funzionamento del carry trade e perché può causare anche dei forti crash sui mercati finanziari. L'ultimo è avvenuto ad agosto, se non sbaglio, di quest'anno. Un abbassamento dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve porterebbe in effetti ad una problematica anche sul carry trade che potrebbe nuovamente innescarsi con una certa fluttuazione dei mercati, quindi uno scioglimento del carry trade e una riduzione, una vendita quindi degli asset, soprattutto quelli rischiosi nei mercati finanziari, quindi parliamo di asset classici. Andiamo a vedere però, prima di commentare e analizzare tutto quello che Arthur Rice sta dicendo e punto per punto andiamo a vedere le previsioni che sono attese addirittura in questo momento in una specie di parità tra un taglio dei tassi di mezzo punto percentuale e un taglio dei tassi di un quarto di punto percentuale. La mia opinione è che la Federal Reserve manterrà le sue idee di un taglio dei tassi di mezzo di un quarto di punto percentuale, non di mezzo. Però potrebbe in effetti anche scioccare i mercati perché evidentemente magari in possesso di dati ancora non usciti che configurano un rallentamento economico, soprattutto lato occupazione, perché ribadisco la Federal Reserve è molto attenta al lato occupazione negli Stati Uniti, quindi qualora ci siano dei dati che noi ancora non conosciamo che il tasso di disoccupazione negli Stati Uniti è in crisi e potrebbe essere necessario un allentamento un po' più forte, la Fed potrebbe in effetti nella giornata di oggi andare a ridurre di uno 0,5. Però è incredibile come le attese sono per un taglio dei tassi di 0,5 punti invece del classico 0,25. Questo sposta l'attenzione a un'altra questione. Andiamo a comprendere il taglio dei tassi. Effettivamente può avere un effetto importante su Bitcoin. Nel breve periodo cosa succede? Allora, intanto abbiamo assistito a un Bitcoin che nell'ultima fase, insomma nella giornata di ieri ha fatto dei massimi, questo è un grafico a 15 minuti giusto per farvelo vedere, dopodiché abbiamo assistito a un sell on news anticipatorio perché in pratica qui parliamoci chiaro, allora taglio dei tassi di uno 0,25 sell on news perché è il previsto, quello standard. Taglio dei tassi maggiore, ok, impennata di prezzo iniziale magari per un'attesa che non era proprio questa, anche se in effetti anche qui si evince i mercati o qualcuno nei mercati si aspetta già un taglio di 0,5. Quindi anche volendo qui potremmo parlare di un sell on news perché comunque qualcuno ha parlato di questa cosa. In più c'è la problematica di cui parla anche Arthur Ayes del Carry Trade, adesso ne parliamo, che potrebbe in effetti innescare un capitombolo addirittura, quindi un aumento di volatilità e un capitombolo nella... nei mercati classici, Nasdaq per intenderci, quindi i mercati high tech e di conseguenza anche su Bitcoin. In sostanza ragazzi quasi sembrerebbe dirci il mercato non conviene stare in una posizione del genere in questo momento perché il realzo è già avvenuto quello dei tassi, aspettiamo e poi prendiamo posizione. Quindi sicuramente alle 20 all'uscita del dato sul taglio dei tassi ci sarà una grandissima volatilità e poi vedremo se secondo me saranno come da attese, quindi di un quarto di punto percentuale, ci sarà nulla di fatto, quindi probabilmente i mercati andranno dove hanno già deciso di andare in questo momento, quindi se vogliono continuare a salire saliranno, se vogliono continuare a scendere scenderanno, ma indipendentemente dal dato del taglio, cioè non avrà nessun effetto il dato del taglio. Io la vedo in questo modo ragazzi perché è già scontato, cioè un quarto di punto percentuale è già scontato ampiamente dai mercati. Arthur Hayes parla del fatto che tagliare i tassi di interesse potrebbe essere una cattiva idea perché in effetti non è buono allentare in questo momento per la questione dell'inflazione. Allora in effetti è proprio così, cioè nel momento in cui noi andiamo a vedere un taglio dei tassi estremamente veloce da parte della Federal Reserve significa anche due cose. Primo, si lascia più spazio all'inflazione e ancora l'inflazione degli Stati Uniti non è per niente vicino alla target perché l'inflazione degli Stati Uniti è intorno al 3, sopra il 3%, quindi non è al target del 2, quindi in questo momento ancora non è il massimo appunto fare un allentamento così rilevante. C'è da dire che però c'è una questione anche legata alle altre banche centrali, quindi un rispetto di quello che è una sorta di arbitraggio, il dollaro tra le valute forti è quella che ha il valuta che ha gli interessi, i tassi interessi più alti di tutti. Questo al momento ha dato vita alla questione del carry trade, ha dato quindi un ulteriore limpa ai mercati finanziari però non può perdurare così tanto un disequilibrio soprattutto con il tasso di interesse dell'Europa perché altrimenti si creano arbitraggi troppo pronunciati, quindi la Federal Reserve questo lo sa e in linea di massima dovrà a prescindere comunque abbassare i tassi di interesse, quindi al di là del fatto che magari ancora l'inflazione non è controllato meno, li dovrà comunque riassettare un attimo e questo è il motivo per il quale un taglio del quarto di punto percentuale è praticamente certo. Da un altro punto di vista come potrebbe influire su Bitcoin una cosa del genere? Beh, semplicemente influirà in maniera positiva nel medio-lungo periodo, però c'è da dire che nel breve periodo questo effetto potrebbe non avvenire se il mercato delle cripto sarà strettamente correlato anche all'andamento dei mercati classici perché il problema non è legato a Bitcoin in quanto il taglio di tassi di interesse non influenza Bitcoin in maniera diretta, influenza la liquidità all'interno dei mercati e quindi poi uno spostamento dei capitali verso gli asset più rischiosi e più liquidità c'è più gli asset rischiosi ne beneficiano e Bitcoin essendo un asset rischioso può beneficiarne, ricordiamo che il motore principale degli ultimi mesi anche di Bitcoin è stato proprio l'ETF di Bitcoin e quindi più i tassi sono bassi più anche le liquidità girerà appunto anche negli ETF di Bitcoin, perciò alla fine nel medio-lungo periodo più liquidità uguale influenza positiva per Bitcoin, però nel breve periodo, e parlo appunto di effetti da qui al prossimo settimana un mesetto insomma, uno o due settimane, allora cosa succede? Succede che c'è anche una sorta di principio di correlazione con quelli che sono i mercati classici, quindi bisognerà andare a vedere come si muovono i mercati classici, cioè in sostanza che cosa andrà a fare per esempio Nasdaq, perché se Nasdaq che è nel secondo mensile per esempio di questo trimestrale inizia una fase di declino nuovamente per fare una cosa del genere, è possibile che l'effetto sia negativo anche, vedete, proprio nel breve anche su Bitcoin. Questo ovviamente non lo sappiamo per certo perché, ripeto, non c'è una vera correlazione tra Bitcoin e i mercati tecnologici, c'è una sorta di correlazione a tempo, cioè solo in determinati momenti e questo abbiamo imparato dagli anni scorsi, dai mesi scorsi, cioè quando ci sono manovre di politica monetaria importanti si correlano questi due asset, ma lo fanno solo esclusivamente quando le manovre di politica monetaria non sono scontate dal mercato e qui un po' risale un po' il dubbio che è vero che ci sia, ci possa essere questa influenza magari negativa da parte dei mercati classici, ma che poi Bitcoin in effetti potrebbe tutto sommato smussarla questo effetto perché il ribasso dei tassi è già scontato, quindi è vero una politica importante a livello macroeconomico, ma nei mercati è già scontato e questo a livello di aspettative è molto più importante di tante altre cose, quindi morale della favola, l'unico dubbio serio è la questione secondo me che tira fuori Arthur Hayes proprio del carry trade, cioè cosa succede e cos'è il carry trade? Vi faccio un esempio più classico ragazzi, il carry trade è molto semplice, si prende in prestito una moneta che ha un tasso di interesse per prendere il prestito appunto ragazzi basso, che in questo caso è lo Yen, si paga non so adesso non mi ricordo quanto sono ma bassissimi 0,25 mi pare per cento, per richiedere un prestito di Yen si cambiano gli Yen in dollari e si mettono i dollari a rendita su un'obbligazione per esempio, oppure anche su alti rendimenti come possono essere le azioni nei mercati ad esempio americani che hanno un tasso di interesse molto alto. Più è differenziale fra i tassi di interesse dello Yen in questo caso e del dollaro, maggiore è il carry trade, quindi io avrò più dollari in pratica nell'economia statunitense, avrò più investimenti all'interno dei mercati americani perché hanno un tasso di interesse più alto. Tutto qui il discorso, se io riduco questo spread fra il tasso di interesse dello Yen e del dollaro, ed è qui che Arthur Rice interviene, si potrebbe innescare lo scioglimento del carry trade perché il carry trade ha una serie anche di rischi, uno di questi per esempio è legato all'apprezzamento dello Yen giapponese. Se il dollaro si deprezza per una svalutazione dei tagli dei tassi, qui assisteremo ad un rialzo ulteriore di questa curva e questo rende il carry trade estremamente rischioso, quindi cosa potrebbe succedere? Che molti andranno a vendere tutti gli asset in dollari per restituire il loro debito in Yen e questo innesca senza ombra di dubbio un crash soprattutto anche delle questioni tecnologiche. L'ultima volta era avvenuto proprio nell'ambito di agosto in queste giornate qui ragazzi, queste crashoni di agosto che erano stati innescati proprio dalla questione dello scioglimento del carry trade, questo è Nasdaq, quindi un ribasso dei tassi di interesse che scioccherebbe il mercato dello 0,5% senza ombra di dubbio avrebbe un effetto anche su questo tasso di cambio Yen-Dollaro andando a innescare magari un possibile scioglimento di qualche carry trade e comunque questo sarebbe pericoloso per i mercati. Quindi da una parte vedete un po' come sono tutte queste variabili, sono l'uno l'opposto dell'altra, quindi da una parte abbiamo l'immissione di liquidità all'interno del mercato, dall'altra però degli effetti complementari che si vanno ad innescare, molto difficile quindi fare una previsione oggettiva no? Da questo punto di vista bisognerà vedere come il mercato prende questa decisione, senza dubbio la scelta migliore per la Federal Reserve è andare con i piedi di piombo ed è quello che secondo me farà andando a ridurre il tasso di interesse di 1,025 anche per fare un po' un test e vedere quello che succede anche perché l'inflazione in realtà non è assolutamente ancora sotto controllo negli Stati Uniti e il tasso di disoccupazione è ancora molto basso, quindi non c'è necessità per la Fed di fare grandi manovre al momento. Secondo me un taglio dei tassi di 1,025 invece potrebbe in effetti far sì che i mercati siano più rilassati, si sentano più al sicuro e tutto sommato potrebbe innescare una maggiore capacità di recupero dei mercati stessi e quindi un po' di stabilità secondo me è più probabile. Bitcoin ha sempre questo scoglio davanti, al di là di tutto la giornata di oggi è importante perché dovesse essere presa molto bene dai mercati potremmo assistere al breakout finalmente. Di questo livello, il breakout di questo livello che avviene non a caso proprio nella giornata del 18 di settembre, innescherebbe il cambiamento di questa fase quasi sicura, quindi un innalzamento fino al prossimo livello di resistenza a zona 64, 65, 5 che poi diventa lo spartiacque anche per una questione ciclica di rilevanza enorme, cioè l'inizio o meno del nuovo annuale di Bitcoin che sarebbe a quel punto l'annuale sul quale puntiamo e punteranno in tanti, come quello della ripresa della burranna di Bitcoin stesso. Cosa succederà? Guardate oggi che giornata, tutto legato alla giornata di oggi, no? Questo break lo può fare anche nei giorni prossimi, insomma quelli che verranno, però è importantissima proprio questa fase. Va bene, occhi puntati sul taglio dei tassi e soprattutto sulla conferenza otto e mezza Powell in diretta se siete in Italia. Ciao a tutti ragazzi!